Musica e solidarietà in apertura del maggio castiglionese al teatro Mario Spin e il concerto del primo maggio di M&M Medici e Musica, una band composta da professionisti della sanità Dove essere una serata ai giardini, purtroppo la pioggia ci ha precluso questa possibilità e la facciamo a teatro, quindi gli M&M stanno facendo questo concerto a favore anche dell'associazione per la casa di riposo di Castiglion Fiorentino Un ringraziamento va fatto all'associazione Diabetici che si supportano sempre in queste nostre iniziative di beneficenza per cui un grazie anche loro E a tutti farà comodo sicuramente avere una casa di riposo sempre migliore quindi contribuiamo ascoltando della buona musica e grazie soprattutto ai medici che lo fanno per beneficenza da una vita che in tutte le serate che vengono chiamate e partecii per la cura testa, devociare che lo stessi a mori